Salve lettori compulsivi e non, io sono Lady Eileen e vi do il benvenuto sul mio canale. Oggi vi farò ascoltare un estratto tratto dal romanzo La guerra delle due regine di Jennifer L. Armentraut, edito HarperCollins Italia. Ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e se vi va per i vostri acquisti di usare il mio link di affiliazione Amazon che trovate nell'info box. A voi non costa niente, mentre io avrò una piccola percentuale per migliorare la qualità dei video e contenuti del canale. Grazie! Capitolo 1 Castel La debole fiammella dell'unica candela sfrigolò e si spense. La cella piombò nell'oscurità e il suono graffiante degli artigli che etichettavano sul pavimento si fece più vicino. Sotto l'arcata apparve una massa di ombre più fitte, una sagoma contorta che si appoggiava su mani e ginocchia. Si fermò e annusò rumorosamente come avrebbe fatto un gran ratto, perché percepiva l'odore del sangue. Il mio sangue. Quando mi mossi, preparandomi, le fasce di liscia ombro pietra mi si strinsero intorno a gole e caviglie. Quella maledetta pietra era impossibile da spezzare, ma mi sarebbe tornata utile. La creatura emise un lamento cupo. Porca! L'essere partì con un balzo e si precipitò in avanti. Il suo gemito dolente si trasformò in uno stridio da spaccare i timpani. Attesi finché avvertì il puzzo di decomposizione. Poi mi appoggiai alla parete contro la quale ero seduto e sollevai le gambe. La catena tra le mie caviglie era lunga appena 15 centimetri e le manette concedevano uno scarsissimo spazio di manovra, ma era sufficiente. Piantando i piedi nudi contro le spalle della creatura, riuscì a guardarla per bene. Purtroppo il suo alito puzzolente mi investì. Accidenti! Non era di sicuro un craven trasformato di recente. Chiazze di carne grigia erano rimaste incollate al cranio senza peli, ma metà del naso non c'era più. Uno zigomo era del tutto esposto e gli occhi ardevano come tizzoni. Labbra maciullate e piene di tagli. Il craven abbassò la testa e affondò le zanne nel mio polpaccio, lacerando le brache, la carne e il muscolo. Soffiai a denti stretti per il dolore bruciante che mi risalì lungo la gamba. Ne vale la pena. Valeva la pena e come soffrire così? Avrei passato l'eternità a sopportare quei morsi, se avesse significato che lei era al sicuro. Che non c'era lei in quella cella, che non era lei a provare quel dolore. Mi scrollai di dosso il craven, incrociai i piedi e gli feci passare la corta catena oltre il collo. Torsi il busto e strattonai l'oscura catena adosso in modo che gli affondasse nella gola, ponendo fine alle sue urla. La fascia che mi bloccava sotto il mento si strinse, togliendomi l'aria, mentre la catena si conficcava nel collo del craven, che acitò le braccia sul pavimento. Strattonai con le gambe nella direzione opposta, spezzandogli la spina dorsale. I suoi spasmi scemarono in fremiti e io lo trascinai verso di me, in modo da poterlo raggiungere anche se avevo le mani legate. La catena che univa i miei polsi e si collegava all'anello che mi bloccava la gola era parecchio più corta, ma sarebbe bastata. Afferrai le guance umide e fredde del craven e gli spinsi giù con forza la testa, schiacciandola contro il pavimento di pietra tra le mie ginocchia. La carne cedette e uno spruzzo di sangue marcio mi schizzò su stomaco e petto. L'osso cedette con uno schiocco umido. Il craven si afflosciò. Sapevo che non sarebbe rimasto a terra a lungo, ma avevo guadagnato un po' di tempo. Con i polmoni che bruciavano liberai la catena e allontanai con un calcio la creatura, che atterrò vicino all'arcata in un groviglio di arti. Rilassai i muscoli. La fascia che mi avvolgeva il collo si allentò a poco a poco, fino a permettere ai miei polmoni in fiamme di ritrovare l'aria. Fissai il corpo del craven. In qualsiasi altro momento avrei spedito il bastardo fino al corridoio con quel calcio, ma mi stavo indebolendo. Stavo perdendo troppo sangue. Di già. Non era un buon segno. Anzi, mando, abbassai gli occhi. Sotto alle fasce di ombro pietra, tagli poco profondi mi segnavano la parte interna delle braccia, risalendo oltre i gomiti e le vene. Li contai. Di nuovo. Giusto per sicurezza. Tredici. Erano passati tredici giorni dalla prima volta in cui le ancelle avevano invaso la cella, vestite di nero e mute come tombe. Venivano una volta al giorno a tagliarmi e prelevare il mio sangue come se fosse una maledetta botte di vino pregiato. Un sorrisetto selvaggio mi torse la bocca. Ero riuscito a farne fuori tre all'inizio. Avevo squarciato loro la gola quando si erano avvicinate troppo, e per questo avevano accorciato la catena che mi teneva uniti i polsi. Solo una di loro era rimasta morta, però. Le gole delle altre due maledette si erano rimarginate nel giro di qualche minuto. Una cosa impressionante, nonché irritante. Almeno però ne avevano ricavato un'informazione preziosa. Non tutte le ancelle della regina di sangue erano ritornanti. Non sapevo ancora come sfruttare quel dettaglio, ma immaginavo che stessero usando il mio sangue per creare dei ritornanti nuovi di zecca, oppure come dessert per i più fortunati. Appoggiai la nuca al muro e cercai di non prendere respiri troppo profondi. Se il fetore del Kraven a terra non mi avesse soffocato, lo avrebbe fatto la maledetta ombropietra che mi circondava la gola. Chiusi gli occhi. Prima che le ancelle si facessero vive, avevo già passato in cella diversi giorni. Quanti? Non avrei saputo dirlo di preciso. Due? Una settimana? Oppure... Mi interruppi? Piantala con questi pensieri del bip? Non potevo proseguire con quei ragionamenti e non lo avrei fatto. Era andata così l'ultima volta. Avevo cercato di misurare i giorni e le settimane finché ero arrivato a un punto in cui il tempo aveva semplicemente smesso di scorrere. Le ore erano diventate giorni, le settimane anni, e la mia mente era marcita come il sangue che colava dalla testa martoriata del Kraven. Ma qui e ora le cose erano diverse. La cella era più ampia e l'ingresso non aveva sbarre. Non che ce ne fosse bisogno tra ombropietra e catene. Erano formate da un insieme di ferro e ossa di divinità, collegate con un gancio alla parete e poi a un sistema di pulegge che serviva ad allungarle o accorciarle. Potevo alzarmi e muovermi un poco, ma niente di più. La cella era comunque priva di finestre, come quella dell'altra volta, e dall'odore umido e stantio si capiva che mi avevano di nuovo rinchiuso sottoterra. Anche i Kraven che si aggiravano liberi erano una novità. So chiusi gli occhi. Lo stronzo accanto all'arcata doveva essere il sesto o il settimo che trovava la strada fino alla cella, attirato dall'odore del sangue. E questo mi faceva pensare che di sopra ci fosse un gran bel problema di Kraven. In passato avevo sentito parlare di attacchi da parte di quelle creature all'interno dell'alzata che circondava Carsodonia. La corona di sangue ne dava la colpa ad Atlantia e all'ira degli dèi. Io avevo sempre dato per scontato che fossero dovuti a un asceso diventato ingordo che aveva lasciato trasformare i mortali di cui si era nutrito. Adesso stavo cominciando a pensare che forse anche Kraven erano tenuti intrappola là sotto. Ovunque fosse là sotto. E se era così e i Kraven potevano uscire e raggiungere la superficie, allora potevo farlo anch'io. Se solo fossi riuscito ad allentare quelle maledette catene. Avevo passato una quantità di tempo pazzesca a tirare quel gancio, ma pur con tutti i miei tentativi si era smosso dal muro forse di un centimetro, a malapena. Ma non era questa l'unica differenza rispetto al passato. A parte i Kraven avevo visto solo ancelle e non sapevo che cosa questo significasse. Avevo immaginato che sarebbe andata come l'altra volta. Visite fin troppo frequenti da parte della corona di sangue dei loro compari che si sarebbero divertiti a provocarmi, infliggermi dolore, nutrirsi e fare qualunque cosa gli andasse. Naturalmente il mio ultimo giro su quella merdosa giostra non era cominciato allo stesso modo. La regina di sangue aveva prima cercato di aprirmi gli occhi e farmi passare dalla sua parte. Farmi rivoltare contro la mia famiglia e il mio regno. E dato che non aveva funzionato era cominciato il vero divertimento. Era la stessa cosa che era successa a Malik. Si era rifiutato di stare al gioco perciò lo avevano spezzato come erano stati vicinissimi a fare con me? Dei gluti con la bocca secca. Non lo sapevo. Non avevo nemmeno visto mio fratello, ma dovevano avergli fatto qualcosa. Era rimasto nelle loro mani per molto più tempo di me e sapevo di che cosa fossero capaci. Conoscevo la disperazione e l'impotenza, la consapevolezza di non avere alcun controllo, percepita in ogni respiro o boccone, non avere percezione di sé. Anche se non l'avessero mai sfiorato con un dito, essere rinchiuso in quel modo, prigioniero e per lo più in isolamento, dopo un po' rodeva la mente. E un po' era un periodo di tempo più breve di quanto si potesse credere. Spingeva a pensare certe cose, faceva credere certe cose. Sollevai quanto potevo la gamba che mi pulsava dal dolore e mi guardai le mani posate in grembo. Nell'oscurità quasi non riuscivo a scorgere l'uccichio della spirale dorata sul mio palmo sinistro. Poppy. Chiusi le dita sull'impronta e strinsi la mano come se potessi in qualche modo rievocare qualcosa di diverso dalle sue urla. Cancellare l'immagine del suo bellissimo volto contorto per il dolore. Non volevo rivedere quell'immagine. Volevo vederla come era stata sulla nave, il volto arrossato e quegli splendidi occhi verdi, dal lieve bagliore argente o dietro le pupille, impazienti e pieni di desiderio. Volevo ricordi di guance rose per la lussuria o per l'irritazione. Quest'ultima cosa, di solito, quando Poppy stava valutando, in silenzio oppure a voce alta, se pugnalarmi sarebbe stato considerato un gesto inappropriato. Volevo vedere le sue labbra seducenti di schiudersi, la pelle brillare mentre mi toccava la carne e mi guariva in modi che lei non avrebbe mai saputo compreso. Chiusi ancora una volta agli occhi e, maledizione, non vedi altro che il sangue che le colava dalle orecchie, dal naso, mentre si contorceva tra le mie braccia. Dei, avrei fatto a pezzi quella stronza della regina, una volta libero, e mi sarei liberato. In un modo o nell'altro mi sarei liberato e avrei fatto in modo che la regina subisse tutto quello che aveva osato infliggere a Poppy, moltiplicato per dieci. Un lieve rumore di passi mi fece spalancare gli occhi. Lentamente raddrizzai la gamba, i muscoli del collo tesi. Non era normale. Dall'ultima volta che le ancelle erano venute per quella specie di salasso erano trascorse solo poche ore, a meno che non stessi già iniziando a perdere il senso del tempo. Mentre mi concentravo su quel suono, un senso di instabilità mi sorse nel petto. Doveva trattarsi di diverse persone, ma una di esse avanzava a passo più pesante. Stivali. Strinsi i denti, sollevando lo sguardo sull'ingresso. Per prima entrò un'ancella, che quasi si confondeva con l'oscurità. Non aprì bocca, e le sue gonne scivolarono oltre il Craven a terra. Sentì l'acciaio sfregare contro una pietra focaie, e una fiammella si aggrappò allo stoppino di una candela fissata alla parete, dove la precedente si era consumata. Entrarono altre quattro ancelle, mentre la prima accendeva diverse candele. I loro lineamenti femminili erano celati da un disegno di ali tracciato in inchiostro nero. Come ogni volta che le vedevo, mi posi la stessa domanda. Che cosa Vip volevano dire quelle facce dipinte? Lo avevo chiesto una tozzina di volte, non avevo mai ottenuto risposta. La prima ancella terminò di accendere le candele, e si dispose insieme alle altre ai lati dell'arcata. Ebbi un netto presentimento su chi stava per arrivare. Fissai lo spazio tra loro e sentì profumo di rose e vaniglia. Una rabbia bollente infinita mi si riversò nel petto. Poi lei entrò, l'esatto opposto delle sue ancelle. Bianca. Il mostro indossava un abito aderente di un bianco immacolato, quasi trasparente, che lasciava molto poco all'immaginazione. Piegai le labbra per il disgusto. A parte i capelli castano rossastre che le scendevano fino alla vita stretta e sottile, non assomigliava per nulla a Poppy. O almeno era quello che continuava a ripetermi. Non c'era nulla di familiare nei suoi lineamenti. La forma degli occhi, la linea diritta del naso in cui era incastonato un rubino, la bocca piena ed espressiva. Nulla di tutto questo importava. Poppy non era per niente come lei. La regina di sangue, Ileana, Isbeth, meglio nota come la stronza che presto sarebbe crepata. Si avvicinò e io mi chiesi per l'ennesima volta come avessi fatto a non capire che non era scesa. I suoi occhi erano scuri e senza fondo, ma non opachi come quelli dei vampri. Il suo tocco di Amine si era confuso con gli altri nel corso degli anni. Ma nonostante fosse freddo, non era gelido per l'assenza di sangue. D'altronde, perché mai io o chiunque altro avremmo mai dovuto prendere in considerazione la possibilità che lei non fosse ciò che sosteneva di essere? Chiunque altro, a parte i miei genitori. Loro dovevano sapere la verità sulla regina di sangue, su chi fosse davvero. E non ce l'avevano detto, non ci avevano messi in guardia. Una rabbia pungente e dolorosa mi rodeva. Sapere come stavano le cose forse non avrebbe cambiato il risultato, ma avrebbe influenzato in ogni dettaglio l'approccio con cui l'avevamo affrontata. Beh, saremmo stati più preparati, sapendo che la particolare follia della regina di sangue era mossa da una vendetta vecchia di secoli. Ci saremmo fermati a riflettere. Avremmo capito che era davvero capace di tutto. Adesso, invece, non potevamo farci nulla. Non dopo che mi avevano incatenato a un maledetto muro. E Poppy era là fuori e doveva affrontare la consapevolezza che quella donna era sua madre. Poppy Akiran, ricordai a me stesso, non è sola. Neanche la falsa regina era sola. Alle sue spalle entrò un uomo alto, che assomigliava a una candela ambulante dalla fiammella accesa. Un pezzo di merda tutto dorato, dai capelli alle ali dipinte sul viso. Gli occhi erano di un azzurro così pallido da sembrare prosciugati di ogni colore. Erano simili a quelli di alcune delle ancelle. Un altro ritornante, ci avrei scommesso. Almeno una delle ancelle che non erano rimaste morte dopo che avevo squarciato loro la gola aveva gli occhi marroni. Non tutti i ritornanti possedevano i ridichiare. L'uomo indugiò vicino all'ingresso, senza nascondere le sue armi come facevano le ancelle. Scorsi un pugnale scuro fissato a un fodero che gli attraversava il petto e due spade, con le impugnature ricurve visibili al di sopra dei fianchi. Che si fotta! Spostai l'attenzione sulla regina di sangue. La luce delle candele scintillò sulle spire di diamanti della corona di rubini quando Isbeth abbassò lo sguardo sul Craven. Non so se ve ne siete resi conto, disse in tono non curante, ma avete un problema di parassiti. La regina inarcò un sopracciglio scuro e schioccò due volte le dita laccate di rosso. Due ancelle si mossero all'unisono, raccolsero i resti del Craven e lo portarono fuori, mentre lo sguardo di Isbeth guizzava su di me. Hai un aspetto di merda? Già, ma io posso ripulirmi. Tu invece? Sorrisi, notando che la pelle intorno alla sua bucca si irrigidiva. Non puoi lavare via la puzza o scacciarla nutrendoti. La merda è dentro di te. La risata di Isbeth assomigliava a vetro tintinnante e mi urtò ogni singolo nervo. Oh mio caro Castile, avevo dimenticato quanto sai essere affascinante. Non mi stupisce che mia figlia sembri così presa da te. Non chiamarla così, ringhiai. Isbeth inarcò entrambe le sopracciglia, giocherellando con l'anello che portava sul lungo dito. Un cerchio dorato con un diamante rosa. Il metallo era lustro e scintillava perfino in quella debole luce, come solo l'oro atlantiano avrebbe potuto fare. Ti prego, non dirmi che dubiti del fatto che io sia sua madre. So di non essere un modello di sincerità, ma riguardo a lei non ho detto altro che la verità. Non me ne frega un VIP se l'hai portata in tempo per nove mesi e l'hai partorita. Strinsi i pugni. Tu per lei non sei nulla. Isbeth si fece naturalmente silenziosa e immobile. I secondi scivolarono via. Poi disse, sono stata una madre per lei. Non se lo ricorda perché allora era appena una neonata. Assolutamente perfetta e adorabile. Dormivo e mi svegliavo al suo fianco ogni giorno, finché compresi che non potevo più correre quel rischio. Avanzò e l'orlo del suo vestito sfiorò la pozza formata dal sangue del Kraven. Sono stata una madre per lei anche quando credeva che fossi solo la sua regina. L'ho curata quando era gravemente ferita. Avrei dato qualsiasi cosa per impedire quello che le è successo. La sua voce si fece esile e quasi riuscì a credere che fosse sincera. Avrei fatto qualsiasi cosa per impedire che sperimentasse anche un solo attimo di dolore, o che fosse costretta a rammentare quell'incubo ogni volta che si guardava. Quando si guarda non vede altro che bellezza e coraggio. Sbottai. Lei sollevò il mento. Lo credi davvero? So che è così. Da bambina, spesso quando vedeva il suo riflesso scoppiava a piangere, disse la regina. Provai una fitta al petto. Spesso mi implorava di aggiustarla. Non ha bisogno di essere aggiustata. Sibilai. Odiavo. Detestavo con tutto me stesso che Poppy si fosse mai sentita così. Perfino si era successo quando era bambina. Isbeth rimase in silenzio per un momento. Comunque sia avrei fatto qualsiasi cosa per impedire quello che le è capitato. E credi di non avere un ruolo negli eventi? La sfidai. Non fui io a lasciare la sicurezza della capitale di chiaravia. Non fui io a rapirla. Isbeth strinse i denti, sporgendo il mento in una maniera maledettamente familiare. Se Coralina non mi avesse tradita, se non avesse tradito lei, Poppy non avrebbe mai conosciuto quel dolore. Il mio scetticesmo lottava con il disgusto. E tuttavia l'è comunque tradita, andandola a Masadonia. Dal duca Thirman che... taci! Ancora una volta la regina di sangue si irrigidì. Non voleva sentirselo dire. Peccato. Thirman la picchiava abitualmente e lasciava che altri facessero lo stesso. Era un suo grande divertimento. Isbeth trasalì. Trasalì davvero. Ed è colpa tua. Non puoi prendertela con nessun altro. Non è un rimorso di cui tu possa liberarti. Ogni volta che l'ha toccata, le ha fatto del male. Ed è colpa tua. Lei si raddrizzò ispirando a fondo. Non lo sapevo. Se lo avessi saputo gli avrei squarciato lo stomaco e l'avrei costretto a mangiare le sue stesse budella fino a strozzarsi. Ecco, su quello non avevo dubbi. Perché glielo avevo già visto fare a un mortale, una volta. Isbeth mi fissò e le sue labbra strette tremarono. Lo hai ucciso tu? Un'ondata di soddisfazione selvaggia mi investì. Sì. È stata una morte dolorosa? Tu che cosa credi? Sì. La regina si voltò e si avvicinò alla parete, mentre le due ancelle riprendevano silenziosamente i loro posti accanto all'ingresso. Bene. Mi sfuggì una risata ironica. E farò lo stesso con te. Mi indirizzò un lieve sorriso da sopra la spalla. La tua resilienza mi ha sempre impressionata, Castile. Immagino che tu l'abbia ereditata da tua madre. La bocca mi si riempì di acido. E tu lo sai bene, vero? Giusto perché tu lo sappia, rispose alzando le spalle. Ci volle un momento prima che continuasse. All'inizio non odiavo tua madre. Lei amava Malek, ma lui amava me. Non la invidiavo. Mi faceva pena. Sono sicuro che le farà piacere sentirlo. Ne dubito, mormorò lei, raddrizzando una candela che si era inclinata. Le sue dita danzarono attraverso la fiamma, che si agitò con forza. Adesso la odio davvero, però. Non mi importava. Con ogni fibra del mio essere. Dalla fiammella che aveva toccato si lavò del fumo, che si fece di un nero cupo e denso, e sfiorò la pietra umida, macchiandola. Non era per niente normale. Che cosa diamine sei? Non sono altro che un mito. Una storia che un tempo si raccontava ai bambini di Atlantia per ammonirli a non rubare ciò che non si erano guadagnati. Disse, guardandomi da sopra la spalla. Sei una lamea? Isbeth rise. Che tenero. Ti credevo più intelligente di così, però. Si avvicinò a un'altra candela raddrizzando anche quella. Forse non sono un dio secondo i tuoi parametri e le tue credenze, ma non sono meno potente. Pertanto, come potrei non considerarmi tale? Qualcosa mi riaffiorò alla memoria. Parole che ero certo fossero state pronunciate dal padre di Kiran quando eravamo ragazzi. Quando la Wolven che Kiran amava stava morendo, e lui aveva pregato gli dèi di salvarla, anche se sapeva che stavano dormendo. Aveva pregato qualsiasi cosa potesse ascoltarlo, e Jasper lo aveva messo in guardia perché avrebbe potuto ricevere risposta da qualcosa che non era un dio, da un falso dio. Demis, sussurrai con voce roca, sgranando gli occhi. Sei una Demis, un falso dio. Spero che questo assaggio di lettura vi sia piaciuto. Per scoprire come procederà la storia, non vi resta che leggere il libro. Se volete che legga un estratto di uno dei vostri libri preferiti, o volete darmi qualche suggerimento, o c'è una voce maschile che ha voglia di collaborare con me, scrivetemi nei commenti o sui miei social che trovate nell'info box. E ricordate, per sognare non bisogna chiudere gli occhi, bisogna leggere. Michel Foucault. Alla prossima, ciao!